Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video, eccoci qui, nuovo video recensione, ebbene si, però stavolta hanno un make up, nuovo, soliti vestiti, solite cose che vi faccio sempre rivedere, così con una nuova cosa, una nuova vivente, ci sarebbe questa qui, ora vi faccio vedere, la spazzola della Revlon, quella là che asciuga i capelli, la spazzola quella, come posso dirvi, Air Underbloomers, questa è la nostra, qui è l'intorno dei capelli vicino, già utilizzata da me e da mia mamma, molto bella, questa è la presa mia mamma, con i punti comprata, sia comprata con i soldi, sia con i punti della spesa, quella del Conard, questa è la spazzola quella di Bofono, che vi fa dei capelli più lisci, più belli del mondo e più luminosi, questa è la spazzola in sé, molto bella, molto wow, molto pratica, posso riuscirci pure da sola a adaslarmi i capelli finalmente, quindi senza, finalmente senza fono, e stare mezza con il fono, altre spazzole, la comodità, prima di tutto, eccola qua, comprate questa bella spazzola, a lisciante, a lisciante, che vi fa arrivare i capelli più belli, diciamo, lisci perfetti, altro che andare dal solito marocchiere, quindi, vi consiglio di comprare questa qui, poi ovviamente vi farò vedere con la funzionalità di questa spazzola, molto molto bella, veramente, usata sabato, posso dire che è veramente bella, molto pratica, in un attimo vi asciano i capelli e vi fa pure la piega, quindi, che bellezza, invece più parrucchiere per un poco, oh yes, comprate lei e fate prima, oh yes, questo ovvio tiene pure la sua spina, non se dovete solo mettere il riduttore giusto, e via, le seconde, questo è il risultato un po' con i miei capelli, se riesco vi faccio vedere, perché è il risultato di sabato, se vedete un po' i capelli un po' onorati, perché tengo sempre il codino, però, una volta che ho usato questa, un seguito, questi sono i miei bellissimi, da vedere che vedete, il vostro, poi ovvio vi farò il video specifico, e quindi, se vedete questa spazzola, compratela in tanti, tutti i modi, tutti i modi, potendo, la potete comprare tranquillamente su internet e tutto il resto, e quindi, ragazze, se volete l'altro video, io mi attacco nel frattempo i capelli, nel frattempo, se volete il video che vi farò vedere come funziona questa bellissima spazzola, mettete tanti mi piace e commentate, ok? E quindi, ci vediamo ai prossimi video, vi mando un grande bacio, ci vediamo ai prossimi video, mettete tanti mi piace sotto i video, commentate in tanti, e per tutte le altre informazioni, nell'info box, e poi per passare su Instagram, passate nel mio profilo, qui, come sempre, per avere sempre tutte le aggiornate, tutte le mie foto aggiornate, tutta la mia vita aggiornata, per voi, ok? Quindi, un bacio, e ciao a tutti, ovvio non vi perderete neanche le dirette, se riesco a farle, quindi, passate su Instagram, e poi, ci vediamo nei prossimi video, e ciao a tutti, un bacio, e vi voglio bene! Grazie.